Passa anche un emendamento da me presentato, importantissimo, per quanto riguarda i comuni ricadenti nel cratere sismico del 2009 e non solo nel cratere sismico, anche quelli fuori cratere di quel periodo lì e per quanto riguarda gli eventi sismici anche del 2016-2017. In buona sostanza, nella legge che oggi è stata licenziata dalla Commissione, sono stati accolti all'unanimità i miei emendamenti che prevedevano l'estensione del risarcimento dei danni per affievolimento dell'attività economica oppure per chiusura da parte delle piccole imprese artigianali e commerciali incise dalle disfunzioni delle realizzazioni di interventi da parte della pubblica amministrazione. Con il mio emendamento abbiamo esteso anche la possibilità che questi risarcimenti vengano dati da parte di eventuali disfunzioni causate dalla realizzazione di interventi privati però realizzati nell'ambito della ricostruzione post-sisma 2009 e post-sisma 2016-2017.